Siamo qua con Silvano Cozza, direttore generale del Como. Oggi un'altra prova non all'altezza, quarta sconfitta consecutiva e l'ambiente incomincia un po' a essere difficoltoso. Buonasera a tutti. In effetti oggi è stata una debacca, veramente irriconoscibili certe ragazze che dovrebbero portare avanti la squadra ed è veramente un'inversione di marcia che preoccupa. Preoccupa molto, qualche nota positiva c'è stata, è meglio sottolinearla, delle giovani entrate che hanno fatto vedere tanta voglia, quella voglia che è mancata proprio a chi doveva fare la partita. Quindi un episodio, speriamo che sia così, altrimenti veramente c'è da preoccuparsi sull'atteggiamento di qualcuna che dovrebbe fare molto, molto di più. Dispiace veramente perché non conta con chi abbiamo giocato, se era dietro o davanti. Abbiamo giocato male, male, male. Unica nota positiva appunto, anche oggi un altro esordio dalle giovanili. Bontà del progetto, soprattutto del settore giovanile, della crescita dei ragazzi. Certo, questo va avanti ancora. Appunto continuiamo a mettere l'infa nuova in squadra, sempre più giovani. Il mister lo vedo molto contento delle retrovie e avrà degli appoggi sempre più, diciamo, acerbi. Però con la mano e con la voglia e la capacità che hanno anche queste ragazze, il progetto non era bim bum bam. Il progetto è a lungo termine e a lungo termine vuol dire che il domani deve sorridere. Si paga per sorridere più avanti. Sì, Claudia, Claudia. Bene, brava la ragazza. C'era un panchino un'altra 2002. Non è che l'ha fatto perché mancavano delle persone. Sicuramente in questo mese ci saranno delle partenze. perché è inevitabile dopo aver visto tre mesi l'atteggiamento di qualcuna. Quindi qualche partenza arrivi non è facile, nonostante aver sondato il mercato in lungo e in largo. Ma logicamente si resta nella propria squadra in questo mercato. E quindi andiamo avanti con le retrovie. Una primavera fatta per fornire materiale al mister. Infatti la primavera viaggia a metà classifica. Quando la primavera del Como per sei anni di fila ha vinto tre volte il campionato regionale. E si è sempre seconda le altre volte. Quest'anno la politica era dall'alto al basso. Quindi la società non è che è delusa. È delusa dalla prova odierna. Il progetto va avanti. E va avanti senza guardare in faccia a nessuno. Voglio dire questo. Senza guardare in faccia a nessuno. Sto parlando delle calciatrici logicamente. Grazie mille. Silvano Cozza. Alla prossima. Grazie a te. Grazie a te. Grazie.